buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere appunto tutte le mie creazioni in resina UV ma prima come avete detto dal titolo c'è una novità oggi non so ancora dirvi a che ora aprirò di nuovo il mio negozio Etsy però vi spiego un attimino come funziona la cosa allora io non ho tempo di gestirlo quindi l'ho fatto gestire alla Lore che è la mia migliore amica forse l'avete visto in qualche video assaggi un po' vecchio e appunto lo faccio gestire a lei ma visto che forse le hanno proposto un lavoro e questo si saprà fra una settimana e mezzo o due è possibile che appunto fra una settimana e mezzo o due il negozio richiuderà quindi se siete interessati a qualche mia creazione vi consiglio di affrettarvi appunto perché è possibile che rimanga aperto per poco poi magari non la prenderanno in quel caso avrà più tempo e quindi potrà tenerlo aperto però vediamo e niente appunto ci saranno non le ho ancora messe tutte perché come sapete le mie creazioni sono 6 miliardi per ora ce ne sono un centinaio e volevo anche farvi sapere che con ogni acquisto ci sarà un bigliettino firmato da me con... non so ancora scritto cosa devo un attimo pensarci e niente appunto volevo farvi sapere questo il mio negozio è su Etsy e si chiama Erika Dolci Tentazioni mi pare questo nome è molto vecchio però vabbè non so se si può cambiare lo lascio così ed è per questo che oggi faccio questo video perché anche se non sono tantissime queste creazioni le voglio mettere appunto in vendita e quindi se le metto in vendita poi non le potrò più far vedere in un video quindi appunto appena aperto il negozio queste ancora non ci saranno perché ce le ho qua però gliele darò e presto ci saranno appunto visto che so che vi piacciono molto e concordo queste creazioni sono bellissime quindi cominciamo questo benedetto video ovviamente vi lascio nell'info box il sito appunto il mio sito allora io partirei con questa che mi pare fosse proprio la prima il bello è che le prime le ho trovate insieme alle altre creazioni non me le ricordavo assolutamente proprio zero la prima prima che avevo provato a fare era questo macello perché è un macello ci sono dei brillantini qua e dei no questi sono glitter e questi sono brillantini e poi ci sono dei fiorellini e non era proprio pari non avevo ancora imparato bene a farla pari però alla fine mettendoci il lucido sono riuscita a farla molto più trasparente visto che all'inizio avevo questo problema che non si lucidavano molto poi anche questa è una di quelle vecchie più vecchie insomma e a parte che è piena di bollicine purtroppo però è molto molto carina questa tutta rosa con il rosa e bianca perché questo fiorino è rosa e questo è bianco e mi piace tantissimo non c'è niente da fare queste creazioni anche se non sono il massimo tipo la prima mi piacciono un sacco allora la prendo un po' a casaccio in pratica sì questo video lo sto facendo solo perché voglio ricordarmi di queste bellissime creazioni prima di venderle e ok questo madonna quanto mi piace bellissimo questo gelatino al pistacchio e fragola più o meno con colori forse un po' troppo intensi e c'è il cono super brillantinoso e poi vabbè questo fiocchettino d'oro abbinato alla parte in metallo dorata mi piace da morire adoro tantissimo poi questa è abbastanza random assomiglia un po' a quella di Sakura e mi avete molto spesso consigliato di metterci tipo delle ali tipo queste ma come vedete è troppo grossa e quindi tutte quelle che ho da fare in resina sono troppo grosse perché questa creazione non è molto grossa ho detto grossa cinque volte ma va bene e niente fatta così non si vede una cippa ok ora si vede meglio carina poi anche questa era una delle prime mi piace tantissimo adoro questa creazione l'ampolla con effettivamente mi avete consigliato che essendo verde può essere la polisucco è vero non ci avevo pensato ed è bellissima piena di brillantini con questi due brillantini qua e poi la creazione questa volta è argento poi tiriamo fuori due pianeti allora questo è il primo bellissimo eccolo qua mi piace tantissimo con questo diciamo effetto galassia fatto un po' così a caso ci avevo provato e direi che mi è venuto molto carino ci ho fatto proprio ci sembra la via latte a questa striscia di glitter che si divide mi piace un sacco e poi ho fatto questo in modo diverso e anche questo mi piace un sacco con tutti questi glitter di vari colori di varie dimensioni di varie forme c'è anche la stellina anche questo mi piace tantissimo ah queste cose mi hanno fatto venire in mente che tutte le mie creazioni o la maggior parte magari non quelle più grandi così come vedete dalla foto avranno tipo la creazione al centro poi ci sarà una collana un portachiavi una calamita perché voi nella nota dell'acquisto potete scegliere se la volete appunto come collana calamita o portachiavi mi raccomando specificatelo altrimenti verrà spedita come collana e magari una cosa non vi piace come collana e vi arriverà come collana insomma non è il massimo ora andiamo avanti con questa che direi che va abbinata a questa che le ho fatte appunto uguali e sono la tazzina e la teiera oddio questa in confronto sembra una tazzona dobbiamo farla un po' più piccola forse però vabbè sono comunque abbinate con gli stessi puntini gli stessi colori le stesse roselline qui e sono molto carine poi questa 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 forse no aspetta non mi ricordo quale c'era una che avevo fatto quando avevo provato i gel presi da wish ma non mi ricordo qual è forse questa no qual era non me lo ricordo proprio va bene facciamo finta di niente non credo fosse questa perché i gel sono tutti molto brillantinosi comunque c'è questa qui che è rosa che si sfuma in viola che si sfuma in azzurro e poi qui c'è un fiocchettino che si vede un po' poco nella videocamera e vi sembrerà vi sembrerà strano ma non riesco a capire se questa creazione in contorno è d'oro sì è oro ok non lo so sono diventata dal tonica tutto in un tratto poi anche questa mi piace tantissimo è bellissima guardate com'è carina questo gelatino più texturizzato dell'altro perché appunto ha la texture nel cono vedete che questo non ce l'aveva e questo colore forse mi piace un po' di più no è troppo scuro e questo era troppo chiaro non ce lo posso fare vabbè comunque mi piace un sacco e soprattutto questo effetto semi trasparente con i brillantini che no è bellissimo mi piace tantissimo con la fettina di fragoli la fettina di fragolina sì vabbè poi vi ricordate questi che carini questi scusate ma penso che non li venderò li voglio assolutamente usare per me per degli orecchini che sono veramente belli visto che d'estate ho un sacco di cosine rosa ma non ho orecchini di rosa vabbè e questi appunto sono dai mettete fuoco questi sono appunto rosa che si sfumano al centro in bianco e dentro hanno il non so come si chiama il centro del fiore giallo li adoro questi sono veramente carini poi abbiamo questa anche questa è abbastanza semplice però è super super brillantinosa ed è anche molto lucida e niente mi piace un sacco queste creazioni sono tutte belle praticamente anche quelle che mi vengono male non è non è normale credo eh poi abbiamo questa qui anche questa la adoro è un sacco carina si vede poco perché qui è semi trasparente azzurro poi c'è questo che è argento e vabbè il gelatino con queste perline che dovrebbero essere tipo i mirtilli non sono del colore giusto vabbè lasciamo stare sono fruttine bacche di qualcosa mi piace un sacco poi c'è il coniglietto molto carino e niente non c'è molto da descrivere questo si vede già così com'è bello lucido guardate com'è lucido poi questo che è praticamente l'unico che ha sotto una creazione un po' diversa dalle altre non è una di quelle con il buco dietro appunto come tutte queste che ho fatto vedere questo è un vero e proprio ciondolo cameo come vogliamo chiamarlo molto carino super brillantinoso anche nello sfondo con Totoro poi ci sono le due alette un sacco carine che devo ancora capire come mettere insieme anche queste sono super brillantinose mi piacciono molto e infine questa che per me è la più bella in assoluto quindi la mia preferita che è questo unicorno madonna quanto mi piace questo unicorno mi piace troppo con la cremiera arcobalino e niente sono troppo contenta di come mi è venuto inoltre ne mancherebbe una ve la ricordate quella creazione con era una specie di cameofio con i nevi io ci avevo messo dentro il bianco l'azzurro con i glitter tutti sfumati mi piaceva un sacco bene un giorno mi è caduta perché l'ho proprio vista mi è caduta so anche dove in un angolo della camera ragazzi è sparita nel nulla vi giuro non c'è più l'ho cercata ovunque è sparita si è volatilizzata non è normale anche a voi succedono queste cose no? perché comincio a pensare che ci siano i fantasmi in casa mia comunque niente a parte quella che ho perso penso di averle fatte vedere tutte perché le avevo messe più o meno tutte insieme quindi spero di non essermene dimenticata e non so bene quando le metterò quando la la Lore le metterà nel negozio comunque appena la vedo gliele do il video finisce qui io le adoro tantissimo fatemi sapere quale è la vostra preferita la mia è assolutamente questa la adoro da morire e niente noi ci vediamo domani con il video sulle creazioni in resina ciao 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 ciao